Stai provocando la ragazza sbagliata! E non li sputare, Paxton! Se tua sorella vuole che mangi i piselli, li devi mangiare e basta! Appunto! Polly! Dovevi dare la pappa a Paxton e non usarla per dipingere la cucina! Sono la sorella maggiore e lui dovrebbe imparare ad ascoltarmi! E tu dovresti ascoltare lui? Devi cercare di capire le sue intenzioni e poi ti regoli! È un bambino incontrollabile! Buonasera, Polly! Signorina Mance! Anche il mio bellissimo Smiggy ti saluta! Oh, signorina, non l'abbiamo sentita arrivare! Polly, stasera la signorina Mance starà con te e Paxton mentre noi siamo fuori a cena! Ma anche a me piacerebbe mangiare fuori! Scusa, tesoro, è una cenetta romantica! Grazie per la sua disponibilità! Se figuri è un piacere! Allora, signorinella, adesso devi metterti a fare i compiti e poi... Sei pronta, Polly? Un attimo e arrivo! Non credo proprio! Ma la mamma ha detto che potevo aiutare Laila a fare la dog sitter! Se le cose stanno così, mi sembra giusto? Sì! Mi sembra giusto che la giovane imprenditriccia porti fuori anche Smiggy! Se avrai finito i compiti quando sarà tornata, potrei lasciarti stare un po' con lei! Ma i compiti possono aspettare fino a... Basta, Connie, ma... Io devo badare a te e farai quello che ti dico! Vai in camera tua e non uscire finché non avrai il mio permesso! Ci vediamo più tardi, Polly! Allora, basta una piccola modifica e sono più che sicura... Principessa, c'è una grande notizia! La signorina Mans oggi pomeriggio non può venire, ma ci serve una babysitter per Pax mentre siamo all'incontro di karate di Pierce! Perciò... Lascerete finalmente che lo guardi io! Certo! Non sono molto convinta? Dai, Polly è pronta! Forse hai ragione! Senti, se tutto fila liscio, ti compriamo quell'anello luccicante che ti piace tanto! Iiii! Vuoi dire l'anello cambia colore? Ti prometto che sarò la miglior babysitter della storia! Comincio ad andare in macchina a prendere tutte le cose di Pax! Corro! Viverò un sonaglio, giochi... Oh, e ovviamente bubu! Facco! Bene, mi manca solo il bambino! Non devi perderlo mai di vista! Sai che ama arrampicarsi! Noi andiamo a mangiare un boccone adesso! Il numero del ristorante lo trovi sul frigorifero! Passeremo anche a comprare qualche pacco di pannolini, ma per oggi ne hai sufficienza! E poi andremo ad assistere all'incontro di arti marziali di Pyrsa e infine... Tesoro, tesoro, non preoccuparti! Polly saprà cavarsela! Chiamami se c'è qualche problema! Ovviamente! Saluta mamma e papà! Ciao ciao, Polly! Ciao, Pax! Oggi passeremo tutto il pomeriggio insieme! Bello, eh? Ok, come non detto! Non piangere! Non piangere! Guarda! Che cosa vuoi? Salatini? Pesci biscotti? Bomboloni alla crema? Leila, Shani, allarme rosso! Pax è inconsolabile! Oh, cavoli! È più disperato di me quando ho scoperto che i quadretti erano tornati di moda! Che bambino impossibile! Non preoccuparti, ho cercato il miglior giocattolo per bambini e te l'ho portato! C'è tutto quello che può desiderare! Chiavi, sonaglino e fai versi degli animali! Visto? Lo ama già! Adesso ci sono! Ovviamente piange per colpa di come è vestito! Guarda! Lo strillerai anch'io se fossi conciotta così! Alciuga con le lacrime fuori moda! Diventerai il bambino più fashion di tutto il quartiere! Dai, Pax! Sai che puoi battere un fuoricampo! Il sole cavol cacoboi! Basta, sceneggiate! Come fa a non piacerti il costume da sirena? Per me è l'ultimo grido! Non funziona niente! Dovresti chiamare tua madre e chiederle consigli! No, se lo faccio capisce che la situazione è fuori controllo e addio, anello cambia colore! Ciao, piccoli amici! Siamo Polly Pocket, Shiny e Lyla! Ora che abbiamo un pulsante magico siamo ancora più entusiaste all'idea di esplorare la mappa! Chi di voi è pronta per una nuova avventura in viaggio? Io, io, io! Possiamo tornare alla Malandria per esplorarla meglio? Ma certo, facciamolo! Potere Mini Polly! Sì! Potere Mini Polly! Buongiorno ragazze! Meno male, siete arrivate giusto in tempo per il grande convegno dei lavoretti fai da te! Vi mostro la postazione! La postazione? Quella è postazione? Grazie! Il mio nome è Dan! Giusto! Grazie, Dan! Ma non ci siamo iscritti al convegno dei lavoretti! Ragazze, sinceramente ho la sensazione che anche questa volta ci sia lo zampino di Nonna Pocket! Beh, comunque sarà molto divertente! L'unico problema è che non abbiamo nulla con cui fare i lavoretti! Dai, forza Polly! Ripensa ai tuoi vlog! Ci sarà qualche idea a cui potremo ispirarci! Allora, vediamo un po'! Ho trovato! Possiamo realizzare i nostri braccialetti dell'amicizia! Aspettate, anzi... No, purtroppo non possiamo! Non abbiamo nessun materiale con cui lavorare! Con il pulsante a stella possiamo tornare alla capanna tropicale! Useremo le gemme musicali del fiume come perline per i braccialetti! E come figli utilizzeremo le stelle filanti che ho tenuto come souvenir del regno dell'unicorno a sorpresa! Squadra, mi sembra un piano fantastico! Molto bene! Direi che siamo pronti per tornare! Oh! 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 Perfetto! Gentili signore e signori e lama, il grande convegno dei lavoretti fai-da-te avrà inizio fra tre, due, uno... Oh! Oh! Abbiamo finito giusto in tempo! Guardate chi è arrivato! Aliana è la principessa Rain! Ciao ragazze! Ciao, sono davvero felice di rivedervi! E quelli cosa sono? Chiudete gli occhi e tendete le mani! Oh! Oh, voglio riprendere la scena per il mio vlog! Sono i nostri braccialetti dell'amicizia! Ricordano ai nostri amici che possono sempre contare su di noi! Sono fantastici, li adoro! È un regalo meraviglioso! E grazie per le ispirazioni che mi avete dato! Guardate, è una mia creazione per voi! Grazie, principessa! Sapevo che vi sarebbe piaciuta! Infatti, ci piace tantissimo! Ok, ragazze, si è fatta l'ora di andare! Forza, dite ciao ciao! Ciao ciao! Ciao, piccoli amici! Ci vediamo presto con una nuova avventura in viaggio! Ciao, piccoli amici! Sono Polly Pocket e vi do il bentornato nel mio vlog! Abbiamo trovato finalmente il modo di esplorare la mappa! Quindi adesso... Provate a indovinare qual è il piano di oggi! Visitare una delle altre destinazioni! Potere mini-polly! Aspettate, quale simbolo scegliamo? Questo... Cartone di succo? Potere mini-viaggio! Wow! Ragazzi, siamo in una foresta tropicale! È fantastico! Forza, esploriamolo! Guardate lì! Abbiamo uno scooter a testa! A me in rosa! Oh! E cos'è quel posto lassù? Deve essere il cartone di succo della mappa! È un bar in perfetto stile tropicale! Quelli si chiamano capannitichi! E c'è anche una musica fantastica! Questo pazzo è fortissimo! Sembra proprio il posto ideale per divertirsi e rilassarsi! Già, ma come faremo a passare sull'altra sponda per raggiungerlo? In effetti l'acqua mi sembra un po' troppo profonda per poter attraversare a piedi o sugli scooter! Cerchiamo lungo la riva un punto dove l'acqua sia più bassa! Guardate queste bellissime pietre! Forse stanno a indicare che questo è un punto di passaggio! Strano, vero? Sapete, tutto questo mi ricorda qualcosa! Ragazze, è straordinario! Devo filmare tutto per il mio vlog! Ho capito! È la stessa musica che proviene dalla capanna decorata con il succo di frutta! Interessante! Allora potremmo provare a suonarla! Che ne dite, ragazze? Ehi, guardate! Direi proprio che siamo riusciti a creare il mezzo più stiloso che ci sia per attraversare il fiume! Woohoo! Woohoo! Sì! Sì! Questo posto è davvero fantastico! Gran bel ritmo, Polly! Oh! Oh, ma è chiaro! Nonna Pocket è già stata qui! Sì! Tanta musica, magiche pietre preziosi e le mie migliori amiche! Arrivederci alla prossima avventura e viaggio, piccoli amici! Ciao, piccoli amici! Sono Polly Pocket! Sapete chi ha appena finito i progetti per il Festival della Scienza? Woohoo! E ora passeremo il resto della giornata a divertirci alla grande! Con un po' di magia! Vi porteremo al Parco dei Divertimenti a provare tutte le attrazioni! Potere Mini Polly! Potere Mini Polly! Potere Mini Polly! Che sta succedendo qui? Credo proprio che sia in corso una gara di gelati! Guardate quanti gusti favolosi ci sono! Scaglia di zucchero filato marmorizzato alle caramelle! Gran sorpresa al cioccolato! Guardate, triunfo di menteciliegia! Questo devo assolutamente provarlo! Allora, com'è? Sono curiosa! È buonissimo! Secondo me c'è proprio un equilibrio perfetto tra mente e ciliegia! Ora anche la tua lingua è al gusto mente e ciliegia! Questo gelato è magico, ne sono sicura! Un cono al gusto gran sorpresa al cioccolato! Oh, ciao, principessa Rain! Siamo felici di vederti! Non vedo l'ora di assaggiare il tuo gelato! Mi dispiace, ragazze, ma... Ho dimenticato a casa l'ingrediente super magico per la mia ricetta! Gli zuccherini arcobaleno! Non posso neanche allontanarmi! Perché sarai immediatamente squalificata dalla gara! Non preoccuparti! Andremo a prenderli noi! Vi ringrazio, ma per voi sarebbe difficile trovarli! Gli zuccherini magici sono nascosti dietro il terzo arcobaleno sulla destra che si trova subito dopo il quinto unicorno sulla sinistra! Perfetto! Il terzo arcobaleno chiaro! Forza, andiamo! Dai, non sarà difficile trovare un... E va bene! Cerchiamo questi zuccherini! Ecco, ci siamo! Terzo arcobaleno sulla destra! È stato un gioco da ragazzi! Giusto in tempo! Vi ringrazio, ragazze! Stanno per annunciare il vincitore! E' buono! Questo è un gusto veramente... Brilliglitterato! Sì, non ci sono dubbi, è il mio preferito! E ci facciamo un selfie! Ma certo! Un selfie è proprio quello che ci vuole per concludere questa avventura in viaggio! Ciao! È arrivato un messaggio da Alianni! Questa sera concorso di canto al parco divertimenti! Mamma mia, ragazzi! È così entusiasmante! Sì, lo so! È straordinario poter ricevere messaggi dallo spazio! Secondo voi possiamo partecipare? Puoi iscrivere anche noi, per favore? Aspettate, forse la nonna l'ha già fatto! Risultate già iscritte! E c'è uno smile! Sì! È valsa la pena prendere lezioni di canto l'estate scorsa! Che ne dite di presentare con la nuova canzone che abbiamo provato? È il momento di mostrare le mie capacità di batterista! E la mia abilità con la chitarra elettrica! Bene, allora andiamo! Il parco divertimenti è perfetto per lanciare il nostro nuovo brano! Potere mini-palli! Potere mini-viaggio! Ciao, ragazze! Sono così felice di rivedervi! Abbiamo appena avuto un problema e... L'impianto di illuminazione non funziona più! E senza le luci non possiamo andare avanti! Ragazzi! Ricordate quel campo di sfere da discoteca che c'è alla Malambia? L'avete visto? È come un normale campo coltivato, solo che è pieno di sfere da discoteca! Ah sì, certo! Non devi preoccuparti, sistemiamo tutto noi! Pronte, ragazzi! Oh, ciao, ragazze! Anche a voi è venuta voglia di un po' di glitter giardinaggio? Più o meno! In realtà ci stavamo chiedendo se possiamo prendere qualcuna delle tue sfere da discoteca! Il concorso di canto al parco divertimenti sarà di sicuro cancellato se non riusciremo a riparare le luci del palco! Cancellare uno spettacolo? Mai e poi mai! Noi lama sosteniamo sempre le arti! Potete prendere tutte le sfere che volete! Ringraziamo con tutto il cuore, Dan! Hai proprio salvato la nostra giornata! Ed ecco un piccolo regalo speciale per voi! Oh, sono bellissimi! Grazie ancora, Dan! Queste saranno perfette per illuminare lo spettacolo! Siete pronte per qualche effetto speciale? Sì! Siamo state grandi, ragazze! Ciao a tutti, piccoli amici! Sono Polly Pocket e sono super emozionata perché oggi condividerò con voi un fantastico tutorial su come realizzare un unicorno fatto in casa! Forza, mettiamoci al lavoro! Dunque, questo unicorno è l'accessorio ideale per decorare la vostra camera! Ma è anche un regalo carino da fare ai vostri amici! Quello che vi serve è del cartoncino, tante strisce di carta colorata, ad esempio la carta velina che userò io, della colla vinillica e un pennello! Iniziamo subito! Per prima cosa, con del cartoncino riciclato come questo, realizziamo la sagoma dell'unicorno in 3D! Troverete tutte le istruzioni nella descrizione di questo video, così potrete farla anche a casa vostra! Una volta terminata la sagoma dell'unicorno, arriva il momento di decorarla! Intingo il pennello nella colla vinillica e la spalmo sulla superficie della sagoma! Poi prendo le strisce di carta velina come questa e inizio a incollarle dappertutto! È davvero facilissimo! Continuate a incollare le strisce fino a ricoprire tutta la sagoma! Oh! Certo, è proprio strano! Questo pezzo di carta velina è super luminoso! Wow! Mi sembra che sopra ci sia scritto qualcosa! Ah! Ma la scritta è così piccola che non riesco a leggerla! Per una mini scritta come questa, c'è bisogno di una mini indagine! Ci vediamo tra un istante! Potere mini polli! Wow! È una... mappa! Quelli sono un lama, un unicorno e Saturno! Ma è meraviglioso! Devo mostrare la mappa a Laila e Shani! Potere mega polli! Ragazzi, raggiungetemi al più presto! Guardate! Ho trovato una mini mappa! Era nascosta nella carta per i lavoretti! Arriviamo subito! Caspita, questa mini mappa è davvero mini! Hai ragione! Eppure qualcosa mi dice che è un vero concentrato di mega avventure! Che ne dite di scoprirlo? Sì, per favore polli, non vedo l'ora! Potere mini polli! Avevate mai visto una mappa con dei posti come questi? No! Mi chiedo come faremo ad arrivare lì e non so neppure dove siano tutti questi posti! Oh, quella ma è davvero odorabile! Oh, guardate lì! Sembra che qualcuno abbia scritto un messaggio sulla mappa! Quella è la firma della nonna! Goditi le tue avventure di viaggio, polli! Utilizzate gli scooter e divertitevi! Ti voglio bene, nonna! Farmi trovare una mappa che riserva fantastiche avventure è proprio tipico della nonna! Perché è questo che abbiamo trovato, ovvero una mappa verso avventure magiche! Sì! Oh, ragazze, sono così emozionata! Polli, dobbiamo assolutamente scoprire il modo per arrivare in questi posti! Sì, e so che ci riusciremo e io filmerò tutte le nostre avventure per il mio vlog! Sì! Ragazze, ora di cena! Presto, ragazze! Potere mega polli! Avete visto che incredibile scoperta abbiamo fatto oggi? Una mini mappa che ci condurrà verso luoghi magici! Ci vediamo presto nel prossimo vlog con tutti i dettagli! Adesso è l'ora della pizza! Ciao! Ciao, piccoli amici! Sono Polly Pocket, bentornati nel mio vlog! Da quando abbiamo scoperto questa mappa, io non riesco a pensare ad altro! Non vedo l'ora di esplorare i posti che troveremo qui! Pronti a vivere con me questa avventura? Sì! Aspettate! Accendo la videocamera! Dobbiamo filmare tutto per il mio vlog! Su, andiamo, ragazze! Potere mini polli! Ok! Come faremo a raggiungere le nostre destinazioni? Il biglietto parlava di scooter! Dobbiamo imparare ad usare la mappa! Potrebbe esserci una formula magica da recitare! Ehi! Cos'è questo? Ha tutta l'aria di essere... Un passaporto! Ecco cosa intendeva nonna Pocket con goditi le tue avventure in viaggio! Questo ci servirà per esplorare la mappa! Ma non sappiamo ancora come usarlo! Visto che per diventare mini recitiamo la formula potere mini polli stringendo in mano il medaglione, potremmo provare a recitare la formula potere mini viaggio stringendo in mano il passaporto! Buona idea, polli! Potere mini viaggio! E se provassimo a recitare la formula non solo stringendo il passaporto, ma anche indicando un simbolo della mappa? Ma sì, proviamo! Vogliamo cominciare dall'ama? Potere mini viaggio! Ce l'abbiamo fatta! Siamo entrate nella mappa! Evviva! Siamo ad un festival musicale! I vostri nomi, prego? Polli, Laila e Shani Oh, siete le prossime! Presto, siete in super ritardo! In ritardo per cosa? Ma se siamo appena arrivate? Siete sulla lista dei concorrenti del Lama-Rama Talent Show! Che cosa? Come siamo finite sulla lista? La nonna! Deve essere stata lei a iscriverci! Beh, sapete qual è il motto di noi Lama? Lo spettacolo deve andare avanti! Seguitemi! Ragazze, non credo di essere pronta a esibirmi davanti a questa folla! Non abbiamo provato nessun numero! State tranquille, siamo perfettamente in grado di improvvisare! C'è una canzone che tutte noi conosciamo a memoria! Oh! Troppo divertenti! E ora come torniamo a casa? Credo che a Shami sia venuta un'idea in proposito! Potere mini ritorno! Guardate che bella mini sfera da discoteca mi ha regalato il Lama Dan! Ok! Appuntamento alla prossima settimana con nuove avventure in viaggio! Sulla nostra mappa ci sono ancora tanti posti da esplorare! Ci vediamo presto con nuove avventure, piccoli amici! Ciao! Ciao, piccoli amici! Sono Polly Pocket e con Shami e Laila vi do il bentornato nel mio vlog! Come potete vedere, siamo pronte per festeggiare Halloween! Travestimenti, dolcetti e brimidi! Di solito facciamo dolcetto scherzetto insieme a Nicolas, ma per qualche strano motivo ha detto che quest'anno non può avvenire! E quindi noi tre abbiamo escogitato un nuovo piano! Vivremo un'avventura in viaggio super spaventosa! Potere mini Polly! Allora, dove andiamo adesso? Al parco divertimenti! Sì! Potere mini viaggio! Certo, ora che il parco è deserto, c'è un'atmosfera davvero inquietante! Però io trovo che sia fantastico averlo tutto per noi! È vero! E sapete che cosa significa niente file? Andiamo! Avete visto lì? Credo che sia passato un fantasma! Ti stai solo facendo influenzare dell'atmosfera spaventosa! Forza, facciamo un altro giro! Avete visto anche voi quella zucca? Forse non siamo soli come credevamo, dopo tutto! Molto strano! No, non può essere! Oltre a noi non c'è nessun altro qui! Che cos'era? Shani, avevi ragione! Il parco divertimenti deve essere stregato! Tutto questo è troppo spaventoso per me! Nicholas! Ci siete cascate! Ricordate lo scherzo che mi avete fatto lo scorso anno? Va via, va via, va via! Quest'anno lo scherzo è toccato a voi! Complimenti, Nicholas! Ci siamo cascate in pieno! In realtà, devo anche ringraziarti perché l'idea mi è venuta guardando il tuo vlog! Sì, ma come hai fatto ad arrivare qui? Beh, diciamo che potrebbe esserci lo zampino di tua nonna! Certo, ovvio! Grazie a lei, sono riuscita ad arrivare qui in anticipo e a organizzare tutto! Ok, Nicholas, è stato uno scherzo veramente epico! Ma il tempo degli scherzi è finito! È l'ora del divertimento! Questo è stato uno dei migliori Halloween di sempre! Sì! Buon Halloween, piccoli amici! Ci vediamo sul mio canale la prossima settimana per una nuova avventura in viaggio! Ciao! Ciao, piccoli amici! La notte scorsa ho fatto il sogno più incredibile del mondo! Andavo in skateboard sui luccicanti anelli arcobaleno di Saturno! Ciao! Tempismo perfetto! Ci aspetta un'avventura in viaggio in cui andremo in skateboard nello spazio! Certo, l'assenza di forza di gravità potrebbe essere un problema, ma capiremo come fare e sarà fantastico! Poteri mini-balli! Guarda questi elementi, Shani! Con il nostro potere mini-viaggio... Polly! Ops! Possiamo testare la forza di gravità qui sul posto! Polly! Aspetta! Dov'è Laila? Oh no! Ho paura di essermi! Fatta prendere dall'entusiasmo! Ehm... Coraggio! Possiamo rimediare subito! Mini-viaggio di ritorno! Scusami per averti lasciata qui, Laila! Forza, ora ci riproviamo! Potere mini-viaggio! Molto bene! Ora ci siamo tutti, quindi diamoci dentro! Aspettate! Temo proprio che ci sia un piccolo problema! Gli skateboard! Oh no, hai ragione! Non mi ero resa conto che voi non eravate attrezzate! Mi dispiace tanto! Però sapete, nella terra degli unicorni ho visto degli skateboard! Prendiamoli in prestito! Certo! Sì! Sì! Dunque, gli skateboard erano accanto all'altale Narcobaleno! Oh! Oh! Mi dispiace tanto che non sia andata come speravamo! Non fa niente, Polly! Andremo sugli skateboard un altro giorno! Buongiorno, ragazzi! Che cosa fate di bello? Avevamo in programma di andare sugli skateboard, però abbiamo dimenticato di portarli! Beh, sapete, in realtà speravo proprio di incontrarvi, perché ho qualcosa per voi, ecco qui! Oh no, ti ringraziamo tanto, principi serene! E ora che ne dici di far avverare il tuo sogno, Polly? Assolutamente sì! A volte ci facciamo prendere dall'entusiasmo e dimentichiamo di organizzarci! Per fortuna io ho delle grandi amiche sempre pronte a darmi una mano! O come in questo caso, un paio di podini! E adesso è arrivato il momento di fare tante belle corse in giro nell'universo! A presto, piccoli amici! Ciao! Ciao, piccoli amici! Sono Polly Pocket e vi do il bentornato nel mio vlog! Abbiamo trovato finalmente il modo di esplorare la mappa! Quindi adesso, provate a indovinare qual è il piano di oggi! Visitare una delle altre destinazioni! Potere mini Polly! Aspettate, quale simbolo scegliamo? Questo? Cartone di succo? Potere mini viaggio! Wow! Ragazzi, siamo in una foresta tropicale! È fantastico! Forza, esploriamola! Guardate lì! Abbiamo uno scooter a testa! A me in rosa! Che cos'è quel posto lassù? Deve essere il cartone di succo della mappa! È un bar in perfetto stile tropicale! Quelli si chiamano capannetichi! E c'è anche una musica fantastica! Questo canzo è fortissimo! Sembra proprio il posto ideale per divertirsi e rilassarsi! Già, ma come faremo a passare sull'altra sponda per raggiungerlo? In effetti, l'acqua mi sembra un po' troppo profonda per poter attraversare a piedi o sugli scooter! Cerchiamo lungo la riva un punto dove l'acqua sia più bassa! Guardate queste bellissime pietre! Forse stanno a indicare che questo è un punto di passaggio! Strano, vero? Sapete, tutto questo mi ricorda qualcosa! Ragazzi, è straordinario! Devo filmare tutto per il mio vlog! Ho capito! È la stessa musica che proviene dalla capanna decorata con il succo di frutta! Interessante! Allora potremmo provare a suonarla! Che ne dite, ragazzi? Guardate! Direi proprio che siamo riusciti a creare il mezzo più stiloso che ci sia per attraversare il fiume! Questo posto è davvero fantastico! Gran bel ritmo, Polly! Oh! Oh, ma è chiaro! Nonna Pocket è già stata qui! Tanta musica, magiche pietre preziosi e le mie migliori amiche! Arrivederci alla prossima avventura in viaggio, piccoli amici! Ciao a tutti, piccoli amici! Sono Polly Pocket e sono super emozionata! Perché oggi condividerò con voi un fantastico tutorial su come realizzare un unicorno fatto in casa! Forza! Mettiamoci al lavoro! Dunque, questo unicorno è l'accessorio ideale per decorare la vostra camera! Ma è anche un regalo carino da fare ai vostri amici! Quello che vi serve è del cartoncino, tante strisce di carta colorata, ad esempio la carta velina che userò io, della colla vinilica e un pennello! Iniziamo subito! Per prima cosa, con del cartoncino riciclato come questo, realizziamo la sagoma dell'unicorno in 3D! Troverete tutte le istruzioni nella descrizione di questo video, così potrete farla anche a casa vostra! Una volta terminata la sagoma dell'unicorno, arriva il momento di decorarla! Intingo il pennello nella colla vinilica e la spalmo sulla superficie della sagoma! Poi prendo le strisce di carta velina come questa e inizio a incollarle dappertutto! È davvero facilissimo! Continuate a incollare le strisce fino a ricoprire tutta la sagoma! Oh! Certo, è proprio strano! Questo pezzo di carta velina è super luminoso! Wow! Mi sembra che sopra ci sia scritto qualcosa! Ah! Ma la scritta è così piccola che non riesco a leggerla! Per una mini scritta come questa c'è bisogno di una mini indagine! Ci vediamo tra un istante! Potere Mini Polly! Oh! Wow! È una... mappa! Quelli sono un lama, un unicorno e il Saturno! Ma è meraviglioso! Devo mostrare la mappa a Laila e Shani! Potere Mega Polly! Ragazzi, raggiungetemi al più presto! Guardate! Ho trovato una mini mappa! Era nascosta nella carta per i lavoretti! Arriviamo subito! Caspita! Questa mini mappa è davvero mini! Hai ragione! Eppure qualcosa mi dice che è un vero concentrato di Mega Avventure! Che ne dite di scoprirlo? Sì, per favore Polly! Non vedo l'ora! Potere Mini Polly! Avevate mai visto una mappa con dei posti come questi? No! Mi chiedo come faremo ad arrivare lì e non so neppure dove siano tutti questi posti! Oh, quella mi è davvero durabile! Guardate lì! Sembra che qualcuno abbia scritto un messaggio sulla mappa! Quella è la firma della nonna! Goditi le tue avventure di viaggio, Polly! Utilizzate gli scooter e divertitevi! Ti voglio bene, nonna! Farmi trovare una mappa che riserva fantastiche avventure è proprio tipico della nonna! Perché è questo che abbiamo trovato, ovvero una mappa verso avventure magiche! Sì! Oh, ragazze, sono così emozionata! Polly, dobbiamo assolutamente scoprire il modo per arrivare in questi posti! Sì, e so che ci riusciremo e io filmerò tutte le nostre avventure per il mio vlog! Sì! Ragazze, ora di cena! Presto, ragazze! Potere Mega Polly! Avete visto che incredibile scoperta abbiamo fatto oggi? Una mini mappa che ci condurrà verso luoghi magici! Ci vediamo presto nel prossimo vlog con tutti i dettagli! Adesso è l'ora della pizza! Ciao! Ciao a tutti quanti! Un saluto da Polly, Shani e Laila! Nell'ultimo vlog la nostra amica Bella ci ha parlato di una sirena che protegge le acque intorno al molo! Quello che credevamo fosse il delfino rosa in realtà potrebbe essere la sirena dell'arcobaleno! E così Bella ci aiuterà a trovarla! E adesso una bella foto! Di te sirena! Io e Polly andiamo alla ruota panoramica! E io e Bella invece andiamo in spiaggia! Andiamo! Ciao a tutti! Da qua non si vede proprio niente! E tu invece Polly? Forse mi è venuta un'idea! Potere mini Polly! E' talmente bello che quasi mi dimenticavo di cercare la sirena! Che giornata movimentata! Non mi sono mai stancata tanto! Vediamo le foto che abbiamo scattato! Non c'è nemmeno una pinna rosa! E adesso che cosa facciamo? Ci resta soltanto un giorno, poi dovremo tornare a casa! Quanto mi piacerebbe riscattare almeno una foto per la nonna! Beh, guarda il lato positivo! Si vede che oggi ci siamo divertite! Hai ragione, Laila! È stata una giornata grandiosa! E poi possiamo sempre sperare in domani! Avete ragione tutti e due! Non vorremmo arrenderci! Continuate a seguire la nostra avventura! Abbiamo ancora una possibilità di avvistare la sirena! Ciao a tutti quanti! Qui Laila, Polly e Shani, le vostre ricercatrici di sirene preferite al rapporto! Oggi è il nostro ultimo giorno di vacanza e non siamo ancora riuscite a trovare la sirena! Oh! Non mi vengono idee! Le abbiamo già provate tutte! Forse dovremmo tornare dove abbiamo visto la pinna rosa il primo giorno! Niente! Ragazze, ho radunato le foto che abbiamo scattato durante la nostra vacanza! Venite a vedere! Visto quante avventure e quanti bei ricordi? Che cosa c'è? Noi speravamo di scattare un'altra foto molto speciale da aggiungere a queste! In effetti non siete riusciti a trovare il delfino rosa! E nemmeno la sirena! Ma non potete negare di essere capitate in un sacco di bellissime avventure! Pensate a quanto vi siete divertite! Dovete sapere che spesso il premio vero sta nel viaggio stesso! Grazie, nonna! Hai ragione! Anche se non siamo riuscite a scattare quella foto, possiamo contare su una tonnellata di ricordi! Bravissime! Così si fa! Ehi, ragazze! Siete riuscite ad avvistare la sirena dell'arcobaleno! Hai forse detto sirena? No, ma ci siamo divertite un mondo nelle ricerche! Delfini, sirene, qualsiasi cosa abbiate cercato, ho la sensazione che abbiate trovato di meglio! La gioia di stare con le vostre amiche! Che cosa ne direste di fare ancora una foto, eh? Pronte per la foto di gruppo sul valo! E ora dite tutti i ricordi! Ricordi! Quell'onda ci ha proprio colte di sorpresa! Un momento, ma quello non è il delfino rosa? Oh, davvero? Lasciami vedere! Eccolo qui! Ma se questo è il delfino, questa cos'è? Non ci posso credere! Un attimo! Lasciatemi vedere! Santo cielo, è proprio lei! Eccola lì! La sirena dell'arcobaleno! A quanto pare, il delfino rosa e la sirena dell'arcobaleno esistono veramente! E noi abbiamo una foto con tutti e due! È bastato che ci concentrassimo sui ricordi della nostra vacanza! Non vedo l'ora di tornare qui con voi al più presto, ragazzi! Chissà cosa scopriremo la prossima volta! Cosa scopriremo la prossima? Grazie a tutti.